Michele stava svolgendo una riunione di condominio presso l'oratorio Giovanni Paolo II in piazza della Repubblica ad Agropoli quando a causa di un malore si è accasciato al suolo. È successo nel tardo pomeriggio di ieri sotto gli occhi di tanti cittadini presenti alla riunione. I sanitari del 118 della Croce Gialla sono giunti sul posto e a nulla è valso il tentativo di rianimare l'uomo. Purtroppo il suo cuore ha cessato di battere. Sgomento e tristezza per la morte di Michele Abate, fratello del consigliere comunale Agostino Abate, stimato e molto conosciuto perché aveva svolto il ruolo di tecnico comunale ad Ogliastro Cilento. Si unisce al dolore che ha colpito i familiari. Anche il sindaco della città di Agropoli, Adamo Coppola, ho appreso con profonda commozione della scomparsa di Michele, fratello del consigliere comunale di Agropoli, Nino Abate, tecnico di grande competenza del comune di Ogliastro Cilento, ruolo che ha svolto con impegno e determinazione fino a qualche anno fa, prima della meritata pensione. La sua dipartita mi ha provocato una profonda tristezza, ha detto il sindaco, un abbraccio a Nino, ai familiari tutti e a chi gli ha voluto bene per questa perdita improvvisa. Inoltre il presidente del consiglio comunale, Massimo Laporta, a nome dell'intero consiglio comunale, esprime profondo dolore vicinanza al consigliere Agostino Abate per l'improvvisa scomparsa del caro fratello Michele. La redazione di Cilento Channel si unisce alle condoglianze ed è vicina ai familiari e all'amico Agostino Abate.